Un'area strategica è stata compromessa. Le forze nemiche avanzano. Metti in sicurezza l'area. Un'area strategica è stata compromessa. 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 Nemici a terra. Ottimo lavoro. Il nemico si sta riorganizzando. È il momento di ricaricare. Questo posto è un nucleo di informazioni nemiche Viola la sicurezza del terminale con i dati Non abbiamo abbastanza tempo per portare a termine la missione Sei fuori dal campo di ricezione Metà dei trattori di sicurezza sono stati superati Perciò rispondere al spazio di sicurezza Abbiamo quello che ci serve. Ben fatto squadra. Area sotto controllo! Il nemico si sta riorganizzando. È il momento di ricaricare. Forza nemiche in avvicinamento. Ok. Ok. No, no. Bel lavoro. Il nemico si sta riorganizzando. Nemico in arrivo. Ok. Vim. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Ottimo lavoro. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.